Furono proprio un gruppo di studenti in fuga nel 1222 da Bologna per cercare la libertà accademica a fondare l'Università di Padova, il secondo ateneo più antico al mondo. E sono ancora oggi, 800 anni dopo, gli studenti i protagonisti dell'inaugurazione dell'anno accademico. La voce di Emma Ruzzon, 22enne, è ferma e decisa, tocca a lei a parlare subito dopo la rettrice Daniela Mapelli. Le sue parole sono un monito alle istituzioni. Qualora vogliate ascoltarci, ci troverete in ogni momento, in ogni luogo, a partire dalle università, fuori dalla cerimonia, ma nei nostri spazi, condivisi. Cari istituzioni, non chiedete a noi di avere coraggio. Noi ci faremo forza, ci uniremo, lo stiamo già facendo. Cari istituzioni, abbiate voi il coraggio di guardare davvero al futuro, cercando di rimediare agli errori del passato. Futuro che guarda la tradizione, come quella che si rinnova ogni anno con la goliardia, che con la sua giocosa irriverenza fa irruzione al termine della cerimonia. Questa gallina padovana si chiama Galilea. È una tradizionale gallina padovana che, come tutti gli anni, noi doniamo alla rettrice o al rettore, come dono, come buon augurio per l'inizio dell'anno accademico. Tradizione che guida il presente. 75.000 gli studenti iscritti oggi a Padova, il 10% degli immatricolati, sono stranieri. Un Ateneo che durante i suoi 800 anni è sempre stato caratterizzato da multidisciplinarietà e dall'eccellenza. Per questo, in una giornata di festa, la notizia che l'Inghilterra, esclude le università italiane dalle liste degli Atenei più prestigiosi per cui è possibile avere un visto speciale, fa polemica. Sorprende il fatto che forse sono loro a perdere, sono loro a perdere molti giovani laureati che sono di altri Atenei e l'Italia nelle graduatorie è salita molto, fra l'altro. Quindi quella graduatoria è forse anche un po' vecchiotta. Detto questo, io credo che la nostra risposta migliore sia di trovare anche noi la nostra attrattività del nostro paese.